bella regà qua è savix che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale ragazzi oggi grice molto carino mettiamola così io non l'ho portato prima raga perché non l'ho provato sincero poi l'ho provato su questo account nuovo devo dire che non è così maffo quindi ragazzi requisiti avere il knight e avere la popolarità del knight ragazzi abbastanza alta quindi non deve stare a zero raga in modo tale che quando entreremo da questo punto ragazzi guardate bene dalla serrana dentro il knight cosa succede al momento che noi saliamo sulle scale ragazzi ogni volta ci darà questa notifica che c'è in basso a sinistra praticamente dovremmo andare a cacciare il tizio dal knight perché fracassa le palle come facciamo a farcelo dare ogni volta semplicemente come faccio io fate lo stesso giro che faccio io ragazzi entrate sempre da dove entro io dalla serrana quella grossa e vi darà sempre il pallino blu il pallino blu da 10.000 dollari ogni volta e mille rp mi pare una cosa del genere comunque sia ragazzi state di 10 minuti avete fatto un milione non so se vi rendete conto quindi ragazzi io vi lascio col video velocizzato se vi è piaciuto il video lasciate un like lasciate un commento supportate il canale alla prossima raga link in descrizione del money freezer i caschetti colorati chi ne ha più ne metta alla prossima sbada bam ciao Grazie per la visione!